Oltre uomo fate un grossissimo applauso, voglio sbagliare tutto subito, no voglio dire giusto Sì, no aspetta, mi mi sposto perché non posso vedere queste robe Ragazzi, un grossissimo applauso No, in un attimo distratto Dal vlog, oltre uomo, Andrea Agostino, voi un grossissimo applauso Tutti quanti che avrà condiviso una volta nella propria vita su Facebook i link di oltre uomo Sì, è obbligatorio Sì, in teoria c'è colpa sua Esatto, c'è colpa sua C'è colpa sua Nessuno che ha fatto un applauso e questo c'è brutto, questo c'è molto brutto Ma questo qua, siamo giurato o c'è la ruttare? Mi non so, ma da faccia potrebbe essere una via di mezzo Puoi fare sia una che che altra Ragazzi, in giuria questa sera che abbiamo sua eminenza Il presidente del Signoressa Calcio Presidente onorario della Drica Shadow Crew Direttamente da Signoressa Un grossissimo applauso a Manuel E la signoressa Puoi! 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 Grande! Ecco, pensai che sto anno Sti dosati qua E pinciotando su internet Dica trovo anche che c'era un torneo del calcetto a Praga E l'ha fatto squadretta? No, l'ha fatto squadretta ma perché? Perché che era dentro l'iscrizione il free drink A un certo punto E la spesa va Credito fin per caro bea A un certo punto mi ha detto Ragazzi, sarebbe meglio che moriamo qua perché Mi pensavo che a Praga si nasce più altre robe però No, non so, può fare certe nuove No, no, no Andiamo solo potendo armonare Solo potendo Sì, sì, sì E una mica più niente C'è anche ragione Però alla fine Devo mandarsi quello con la storia Perché Se non hai un po' solo il budget Per arrivare Che vi sporà Che vi sparsolà il budget Dicevo che in giro pari i tangi Adesso non mi conosci ancora Ma sono una cosa che voglio dare Io Se va a guadagnare il posto in giuria Bravo Perché se sta ripreso dall'arbitro Finché durante la partia Bebeva Però io andavo pissare sul paio della porta Perché aveva bevuto talmente tanto E non vi ha fatto altro Vai Vai Gravissimo Da signorisa